scrive sempre più velocemente è un perfetto mix di grande talento e di ispirazione guardate che fraseggio nulla può fermare questo leggendario memo ora nessuno ci credeva ma lui ce l'ha fatta signore e signori no un attimo ma che succede ha una mano ferma il lavoro sta rallentando il lavoro è completamente fermo è finita sta soffrendo non può andare avanti è il momento di sottoporsi a un trattamento in diva a proposito è contabilità con una sola di